Benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere la mia domenica in maneggio Infatti oggi è domenica e andremo da Pat Oggi probabilmente farò lavoro in piano E niente, andiamo in maneggio Cosa farai stamattina? Oggi probabilmente faccio lavoro in piano E poi con Pat ho cambiato l'imboccatura Ho usato l'imboccatura un po' più forte Però non fa male alla bocca di Pat Anzi diciamo che lo rende un po' più sicuro davanti al salto Ho capito E anche più gestibile Ma perché tutto questo? Perché a fine mese tornerò in gara Ah bello Dov'è che... Andrò a fare la gara a Buscate il 282930 Bene dai, top Allora andiamo in maneggio a trovare Pat Ci vediamo dopo, ciao Ragazzi però prima di andare a montare si fa colazioni Dove? Da... in un bar Hola Fatto colazione? Sì Adesso? Adesso maneggio Ah ieri sarà andata alla Maiors Ho comprato i nuovi stivali delle Gossette Poi ho preso anche il Likit Che per chi non lo sapesse è tipo uno zucchero Apposta per i cavalli Ha il sapore di mela, carota, banana Io infatti l'ho preso la banana Ieri le l'ho appeso E chissà se adesso se l'hai mangiato tutto Oppure no Andiamo a vedere Ciao Pietro Ciao Pietro Pietro Eh ma se l'hai già matato No Se l'hai già divorato? Ma pensa a te Sì è un giorno Ciao Cioè veramente Se l'hai divorato Pazze Mamma mia Le Gossette sono veramente veramente comodi E mi trovo veramente bene La cosa comoda è che hanno tre misure per mettermi in speroni Ciao Abbiamo dello sciroppo Fatto è un po' di mal di gola Quindi gli devo dare lo sciroppo Com'è che funziona lo sciroppo qua? Adesso vede il bello Già vedo che lui si gira al contrario Carota Eh Un pezzo Sì E la siringa poi È che guarda la siringa È scettico Non mangia perché mi vede a me con la siringa Ecco Ah hai capito Dai con la carota Premio Com'è andata? Bene Avventura Adesso prepariamoci Gli diamo da un po' Gli diamo da un po' Andiamo alla salla Così andiamo a passeggiare un po' fuori Così andiamo a passeggiare un po' 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 Ok abbiamo preparato E adesso saliamo E faccio due passi fuori Oggi è domenica e si lavora in piano e non c'è infatti una lezione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.